Se vuole continuare a lavorare in questo ospedale, salvi quel bambino e la madre. Se lei vuole che io continui a lavorare in questo ospedale, non osi mai più parlarmi in questo modo. Equilibri precari. Questa volta non facciamo un passo indietro. Io non accetterò nessun ricatto. Il disonore dura molto di più. Dove le emozioni stanno per prendere il sopravvento. Farò qualsiasi cosa per difendere questo muro. Cosa è giusto? Ho l'intenzione di parlare con lui. Cosa sbagliato? Non lo farai. Lo farò. Sacrificio d'amore. Venerdì 21.10 in Prima Assoluta Canale 5.